In accordo con il Comune di Fano, il progetto realizzato dalla Regione Marche sul nuovo ponte che collegherà la zona del Lido all'Arzilla con una nuova struttura in acciaio larga 2 metri e mezzo risolvendo i vari problemi creati dalla precedente struttura e migliorando di conseguenza l'area sia a livello funzionale che estetico, questa mattina abbiamo chiesto ai cittadini dei pareri sul nuovo progetto. È una bella cosa, perché questo qui stava cadendo, era anche pericoloso, però basta che si sbrighino perché dicevano che dovrebbe essere pronto il 15 aprile, adesso almeno ho visto su Fano TV che sarebbe pronto. Addirittura l'avevano chiuso, la gente se l'ha stufata, hanno aperto, hanno rotto. Io dico la verità, questo qui fa comodo perché io abito alla Gimarra, ma non solo io, persone anziane. Di inverno c'è il passaggio, ma se lo sistemano è una buona cosa. Secondo me verrà fuori un bel lavoro, solo bisogna farlo più grande e un pochettino più alto. E in più bisogna correggere l'arzella che io quando ero piccolo l'arzella camminava là. Bisogna qui togliere tutto. Ah no, ci vuole, quello lì è troppo stretto. Ci vuole. La realizzazione del nuovo ponte verrà terminata entro maggio, mentre entro il 15 aprile verrà realizzato un passaggio provvisorio che permetterà ai cittadini di accedere all'aria senza dover obbligatoriamente transitare lungo la statale.